Ciao a tutti, oggi prepareremo la focaccia alla zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 3 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo zero, farina di tipo manidoba, acqua, latte, lievito di birra, zucchero, olio extravergine d'oliva, porpa di zucca cotta, sale. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo i bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Unire la polpa di zucca, l'olio, la farina di tipo zero, la farina di tipo manidoba e il sale. ed azioniamo i bimbi per 6 minuti, in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferiamolo su una teglia rivestita con carta da forno e li vendiamo con le mani. sale grosso, rosmarino ed irrorare con un filo d'olio. Cuocere in forno prediscaldato statico a 200 gradi per 15-20 minuti circa. la focaccia è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. focaccia alla zucca, può essere farcita con salumi e formaggi. Grazie e alla prossima ricetta! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!